bene bentornati benvenuti tutti insieme stiamo andando avanti proprio alla grande è come se avessimo in questo momento il piede sull'acceleratore ma poi in questi ultimi giorni ovviamente andremo a intensificare la forza dell'intenzione andremo lavorare su portare intenzioni ovviamente legate guarigione lavoro armonia e quello che ci tengo di più in questo periodo storico ovviamente è lavorare nella situazione globale purtroppo quando si leggono determinate notizie e a volte le notizie ci prendono no queste paure ci prendono queste ansie ci prendono delle preoccupazioni allora dire farsi queste queste tre domande io in che cosa sono responsabile e gli altri in che cosa sono responsabili e se io non sono responsabile non posso essere responsabile di una condizione della mia vita e gli altri non sono neanche responsabili delle loro vite chi è il responsabile che può prendersi il comando il controllo della situazione ecco vediamo che c'è qualcosa di molto più grande e molto più infinito rispetto a la capacità del nostro controllo la capacità del mettere le nostre competenze le nostre abitudini o meglio le nostre abilità più che abitudini scusami ma le abilità e le competenze legate a quelle caratteristiche per le quali sono responsabile quindi in che cosa sono responsabile e se sono responsabile cosa posso fare perché molte volte ci prendono delle preoccupazioni dove noi non abbiamo nessun tipo di controllo non abbiamo nessun tipo di responsabilità in merito e quindi è importante osservare in questo momento nel proprio giardino come posso tenerlo pulito come posso curarlo come posso gestirlo e nello stesso tempo se ho la volontà il desiderio di condividere con le persone che vivono accanto a me insieme a me quelle possibilità che posso generare nella mia vita ok quindi in che cosa sono responsabile per chi e perché cosa sono responsabile e se io non sono responsabile gli altri avranno delle responsabilità quindi avranno delle scelte io posso influenzare ok l'ambiente circostante circostante l'abbiamo visto e attraverso l'effetto marisci l'abbiamo visto attraverso le frequenze e lo vediamo costantemente nel cambiamento di questi giorni e le trasformazioni che abbiamo in atto in questo periodo di tempo ma il più delle volte ci prendiamo in carico delle responsabilità che non sono le nostre io posso dire a mio figlio o alla persona che amo la persona che voglio bene di non lanciarti di non lanciarti in qualcosa che è pericoloso posso suggerirtelo posso esserti di esempio posso dimostrartelo però più delle volte non ci rendiamo conto che le altre persone per apprendere alcune persone per apprendere devono sbagliare nel mio caso tutti gli insegnamenti più importanti che avuto nella mia vita scelti è scelti scelti sotto la mia responsabilità e mi prendo tutte le mie responsabilità dal momento in cui ho deciso ho preso delle legnate sulla schiena o addirittura anche sulle gambe metaforicamente e sono rimasto per terra per un po di tempo ne mi hanno segnato ma se non facevo quel tipo di esperienze oggi non potrei essere qui con te a darti determinate caratteristiche che possono aiutarti a prendere atto di una maggiore consapevolezza io posso essere uno strumento ma ovviamente la vita è la tua vita è la tua le tue scelte sono le tue le tue decisioni sono le tue le tue convinzioni sono le tue le tue idee sono le tue i tuoi pensieri sono le tue quante volte mi dicono tante tante cose nei commenti io ti ringrazio ti ringrazio per i commenti quindi belli negativi o poco influenti ma alla fine io so che sono al tuo al tuo servizio sono al tuo fianco e so che posso esserti di supporto dal momento in cui vuoi veramente cambiare vuoi gestire il tuo cambiamento ma se il tuo cambiamento in realtà non parte da te non hai il desiderio non è la volontà non hai l'intenzione come diciamo spesso è difficile no come dire io sono mi hanno scritto io sono la nonna di un nipote fantastico sono la mamma di un figlio straordinario voglio esserli d'aiuto e non so come fare lui che confuso a lui stesso troverà la sua strada purtroppo è brutto dirlo così ma tu devi essere solo di esempio tu devi portare il tuo comportamento le tue le tue abilità il tuo stile di vita le tue la tua volontà il tuo desiderio di essere in quel momento presente nella tua famiglia ma quello che è più importante che determina il cambiamento di quella persona è la sua esperienza non c'è nessun altro passaggio nessun altro modo più efficace che determina la sua esperienza invece dal momento in cui quella persona ha fatto un errore gli puntiamo addosso il dito e gli diciamo vedi te l'avevo detto tra l'avevo detto è così in realtà quando accade qualcosa di influente negativo in merito alla persona che in merito una persona che vuole stavo leggendo i messaggi che vuole veramente cambiare se vuole veramente cambiare te lo chiede e se invece vuole cambiare in modo silenzioso fa delle azioni perché è un suo sentire se io avevo il desiderio a 17 anni circa di fare un'esperienza all'estero perché io volevo andare in centro america e sono andato in centro america fortunatamente ovviamente avevo un mio zio lì che lavorava per un'impresa italiana e ho preso io la decisione preso io le valigie ho preso io i miei piccoli risparmi perché ho iniziato a lavorare a 14 anni perché avrei seguito vie non troppo piacevoli in base a le compagnie che c'erano presenti in quel momento della mia vita e a 14 anni ho detto vado a lavorare non è che l'ho deciso subito io mentalmente in modo consapevole perché ho fatto altre brutte esperienze e mio padre e comunque la mia famiglia mi ha detto o segui tre strade o gli studi o la strada o il lavoro decidi e quindi ho capito che la diciamo la via maestra per me tra virgolette più semplice era quella di andare a lavorare e ho iniziato a lavorare 14 fine 14 anni inizio 15 anni e lavoravo in negozio come commesso stato uno dei primi ragazzi giovanissimi che lavoravano in un negozio della benetton l'epoca ok poi dopo ho lavorato in tanti altri negozi ma un certo momento ho deciso ho scelto che il negozio non riuscivo a stare perché mi sentivo un leone in gabbia no metaforicamente e allora sapevo che mio zio faceva l'idraulico a livello industriale ed è partito partito per questa per questa avventura gli ho mandato una lettera l'ho detto a zio io voglio venire con te a lavorare in centro america e nello stesso tempo c'è voluto ovviamente un periodo dilatato no perché le poste non è che funzionavano talmente bene ci sono 30 giorni per far sì che arrivasse la lettera e 30 25 giorni che far sì che ritornasse indietro la risposta è vero c'erano anche i telefoni ma all'epoca tra l'altro quella lettera ce l'ho ancora con me e all'epoca i telefoni erano tipo 8 mila lire al minuto 9 mila lire 10 mila lire al minuto delle robe spropositanti comunque per fartela breve e che sapevo che stavo facendo una mia scelta i miei genitori mi hanno detto calma questa cosa ti rende felice ti dà felicità ti rende una persona differente dal momento in cui agisce decidi ho detto sì e fai la tua esperienza però noi siamo qua aiutiamo ma in esperienza tua hai i soldi per pagarti il biglietto aereo sì avevo preso i miei piccoli risparmi preso il biglietto aereo costava un milione circa un milione un milione cento l'andate l'andata e poi ho lasciato il biglietto aperto per sei mesi perché c'erano ancora delle leggi ma penso che ci sono ancora adesso se vai nei viaggi intercontinentali devi prendere comunque il biglietto di ritorno perché alla dogana devono capire che tu non puoi stare lì così a fare a prendere il sole devi poi dimostrare se stai lavorando devi avere i contratti eccetera eccetera quindi c'era un biglietto andate ritorno un biglietto aperto con la data di ritorno e potevo decidere quando poter tornare oppure dilatarlo nel tempo alla fine ho fatto un'esperienza di di otto mesi non è andata come doveva andare per come era il mio immaginario ma doveva andare così doveva andare così in quel modo buona brutta bella oggi se dovessi tornare indietro lo rifarei ancora il punto è ovviamente il suggerimento che ti voglio lasciare attraverso questo video è l'esperienza che ti porti dentro di te e limitare il danno cioè l'errore va fatto perché senza l'errore non cresciamo senza l'errore non possiamo imparare senza lo sbaglio non possiamo imparare quindi se per dieci volte dieci volte ti sono venute le cose bene mi spiace non hai imparato allora è meglio sbagliare all'inizio e poi recuperare nel tempo perché è la via della maestria è la via della consapevolezza è capire che voglio fare qualcosa e so metterò in preventivo che una buona parte sarà più faticosa del solito invece in più delle volte pensiamo a no Dio non mi avvicino l'universo non mi è vicino i miei angeli non mi sono vicini non c'è nessuna figura immaginaria, vibrazionale in questo campo morfo genetico che è contro di te anzi è a tuo favore ma quel favore te lo devi guadagnare mi sono divulgato un po' parecchio attraverso questo video ma la cosa più importante che volevo lasciarti è un messaggio quali sono le cose che sono sotto la tua responsabilità perché se tu oggi ti prendi e inizi a prenderti in carico tutte le cose che sono legate alla tua responsabilità la tua vita inizia a cambiare dal momento in cui deleghi la tua responsabilità a un mondo esterno alle notizie esterne agli amici alle persone che ascolti ai messaggi che ricevi magari in questo caso o comunque in tutto questo caso ricevo dei messaggi da persone che ovviamente oggettivamente non conosco quindi non conosco se sono quello che dicono sono coerenti se quello che fanno sono realmente quelle persone che scrivono quelle cose se fanno determinate esperienze che stile di vita hanno quindi se vuoi scrivere scrivi un commento che sia di aiuto alle persone intorno a te e scrivi un commento legato ai successi e ai fallimenti che hai avuto nella vita e se ci sono stati dei fallimenti che cosa hai imparato da quei fallimenti e che cosa hai imparato da quei successi ok e poi come sempre io sono a disposizione per darti tutti i migliori strumenti per poter far sì che anche tu puoi iniziare a fare delle scelte diverse puoi iniziare ad avere una consulente al tuo fianco è una figura che ti permette di darti l'opportunità di risvegliare quei talenti quel potenziale che hai dentro di te ok fai un bel respiro profondo un altro respiro profondo e lascia che questa energia possa espandere possa espandere la tua energia la tua vita la tua forza e immagina questo cerchio di luce che si espande attraverso la tua immensa saggezza sii grato e onora tutto ciò che riguarda la tua vita ringrazia Dio l'universo gli angeli e attraverso la via della tua consapevolezza bene stai per qualche istante in questa vibrazione e lascia che questo cerchio di luce possa pervadere il tuo pomeriggio il tuo tempo la tua vita bene quando vuoi apri gli occhi ricordati ricordati domani stesso canale stessa ora grazie a tutti grazie a tutti